Beh, innanzitutto i giovani dovrebbero stare attenti al repertorio, ci sono delle corde vocali che reggono bene un tipo di repertorio, un tipo di canto ed altre che non lo reggono. Questo deriva dal fatto di una conformazione, come il professore Fussi ben sa, delle corde vocali che vibrando danno delle vibrazioni adatte a un repertorio o leggero oppure lirico oppure spinto. Il fatto di avere un repertorio adeguato dà la possibilità, sia alla gola che alla laringe, di non venire violentata da quelli che sono i sbalzi delle ottave o i vari passaggi dal medio centrale al passaggio e all'appunto. La mia tecnica è quella dell'articolazione pura, come il parlato rafforzato e il rocchiano. Ho sempre avuto una voce chiara proprio perché ho sempre scandito bene tutto quello che ho sempre cantato, appoggiandomi moltissimo sulle consonanti e facendo lavorare parecchio le vocali. Che dire, certo a scuola ti insegnano una cosa, in teatro ne diventa un'altra. Allora ti devi arrangiare, viene fuori il famoso talento e giustamente va avanti chi ce l'ha. Perché a scuola si possono essere bravi, si possono fare tutte le scale, si possono fare tutti i passaggi più difficili, però qui per esempio nei teatri anche all'aperto c'è la difficoltà dell'acustica, l'umidità, le intemperie. Allora, se uno non è già ferrato a scuola, quando si trova in questi luoghi così di grande, in prima linea, li chiamo, ci sono grosse difficoltà. Allora, la scelta giusta del repertorio ti dà la possibilità di lavorare sull'interesse, non sul capitale. e quindi ad affrontare Madonna Butterfly.